non è un squalo ma è abbastanza forte non lo so se è grande speriamo non ha 100 grammi stai aici a stepti ti pare greu? una carta bella però ah è quella credo che tieni il guadino nell'acqua ti prego se non lo perdo è molto forte hai 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 pesante finalmente quello che lo volevo lui diceva di tirarlo ma è difficile per me che bello hai ridicolo finalmente è arrivato a me ti discurcai fara mine? guarda ma questo giocava di là da mezz'ora credo anche di più si si giocava di là quanto è grande lui diceva teni lo teni come lo posso tenere quanto è bello toccalo io questo non lo posso alzare Gianni ma come se ti serve il guadino ce l'ha anche qua una grossa questa è più di sarà 7,8,9 no ma ti serve il guadino ti serve il guadino Gianni ti prende la cana marema santa non lo perde no no l'hai perso dai vai il fratello credo il fratello di quest'auto ma questa ce l'hai frena Gianni si fai con calma oh il figlio io l'ho messo che bello ora facciamo una foto tutti e due non ci posso credere difficile molto difficile io non ce la faccio a tenere ciao bello che fai ti ho preso finalmente e quest'altro poverini non voglio farvi del male capisci bella via Siena